è un evento troppo importante che non può non interessare gli amanti dello sport e invece gliene frega che sono in correlazione con che ha vinto lo scudetto bene allora quanti precedenti ci sono stati tra Natale e Berrettini caro Michele solo uno, solo uno e sai quando? anche in quel caso c'era in palio una finale dello slam vissero Adal ma adesso sono passati tre anni magari le cose cambiano ma quindi Berrettini è andato avanti mi stai dicendo sì? no non fingere di non saperlo perché non ci credo venendo in mattina alle 5 sarà sveglio sicuro proprio al 100% anche perché se mi sveglio poi mi addormento dopo 3 secondi avanti e dietro sta fallendo che è passate ora sinceramente mi addormento dopo un secondo va bene non mi hai convinto però mi aspettavo qualche slam questo bravissimo Cavana proprio questo pari pari Alfredo Pedullà